ciao ragazze e benvenuti su cartisia oggi farò vedere come realizzare un fiocco a partire da un guando in lattice che non usare più allora vi faccio vedere subito come si fa avete bisogno quindi di un guando in lattice che non utilizzate più e di un paio di forbici ritagliate il guando e lattice a questa misura più o meno così dopodiché dovete entrare i bordi in questo modo prima dal lato e poi dall'altro perfetto dopo aver rientrato i bordi tagliate l'indice del vostro guando lo ritagliate per lungo così ok perfetto riutilizzerete metà diciamo del dito del guando dell'indice per chiudere il vostro fiocco e quindi fare il nodino essendo elastico vi verrà bene e voilà qui è pronto subito un fiocco è facilissimo come viste da realizzare si realizza veramente in poche mosse avete bisogno solamente di un guando che non utilizzate più io qua ho decorato il fiocco con dei cuori ed ho utilizzato uno smatto rosso voi potete utilizzare qualsiasi cosa per decorare il vostro fiocco anche dei brillantini strass un poco usate un poco la fantasia voi questi fiocchi sono veramente carini si possono utilizzare anche per chiudere i pacchi da regalo o per tante altre cose spero che l'idea vi piace io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial ciao ragazze alla prossima